La partenza non è stata delle migliori, però devo riconoscere che le ragazze sono state molto brave a rientrare in partita perché c'erano delle situazioni un po' particolari, soprattutto con i tempi di salto a muro, infatti ero preoccupato un po' di questa cosa, non abbiamo quell'abitudine lì. Nel primo set l'abbiamo investito tutto per cercare di capire qualcosa, infatti ci hanno un po' infilato da tutte le parti. Poi, ripeto, nel secondo set, nonostante la partenza un po' a fatica, siamo riusciti comunque ad inquadrarle un pochino meglio e da lì le cose sono cambiate, siamo cresciuti tantissimo in difesa, forse abbiamo anche migliorato un po' la battuta, sicuramente. Alla fine credo che sia stata una discreta partita, siamo usciti fuori molto bene. L'innesto di Barcellini ha dato il suo frutto, siete migliorati in ricezione e ha fatto anche in attacco una buona prestazione. Sì, Cristina è entrata molto bene in partita e io penso che dobbiamo continuare a lavorare in questo modo. Per esempio la settimana scorsa aveva problemi Cristina, è entrata Valentina e ha dato un apporto importante. In base ai risultati delle altre squadre vi trovate di nuovo al quarto posto? Questa è una bella cosa, ma alla fine per me è quello che conta veramente utilizzare questa parte di campionato per cercare di migliorare, soprattutto di recuperare le due assenze importanti che per lungo tempo, soprattutto Alisha, ha tenuto Alisha lontano dal campo. Forse sono entrata in campo un po' più tranquilla del solito, ho fatto quello che comunque avevo dimostrato di saper fare e spero che sia il punto di partenza per continuare a giocare così e non tornare magari un po' indietro perché non so che le cose le so fare, basta. Penso di essermi allenata bene questa settimana, per cui ho voglia di giocare e far vedere che comunque ci sono anch'io.